Ragazzi, siamo in semifinale come miglior pagina juventina del 2021. Oggi abbiamo il derby contro l'Ellone e gli voglio un sacco bene, ma noi vogliamo arrivare in finale. Quindi andate a votarmi su Instagram e su Twitter. Aspetto i vostri voti. Dai ragazzi che la vinciamo! Buongiorno ragazzi, eccoci qua. È il 23 dicembre 2021, quindi so che sarete già pronti per la vigilia e tutte queste cose qui. E quindi ho deciso di fare questa cosa, nel senso parlare oggi, fare un doppio video. Uno è questo qua che state vedendo qua. Parlare di tutto quello che è stata la prima parte di stagione della Juve e dare delle valutazioni. Valutazione generale sulla Serie A, valutazione generale sulla Champions e pagellone ai giocatori. Quindi il secondo video della giornata sarà il pagellone ai giocatori, sia per quanto abbiamo visto in Serie A, sia per quanto abbiamo visto in Champions League. Perché penso che sia giusto, arrivati esattamente alla metà della stagione, iniziare a tirare alcune somme e parlare di quelle che sono state le cose buone e le cose meno buone, viste da questa Juventus che ci ha regalato appunto il percorso in questa prima parte di stagione 2021-2022. Domani, non ho idea se ci saranno video, nel senso della vigilia di Natale, mi piacerebbe parlare eventualmente di mercato, fare due chiacchiere sul mercato, ma era qualcosa di molto leggero perché sia io che voi saremo tutti impegnati nella vigilia di Natale, non vediamo l'ora di poter festeggiare tutti insieme con le famiglie, dove è possibile con gli amici in altre occasioni. Quindi, insomma, domani cerchiamo un attimino di fare le cose quasi da giorno di ferie, così come sarà sicuramente per Natale, a meno che non verranno fuori delle notizie incredibili e nel caso sarò ben lieto di mettermi qua insieme a voi a commentarle. C'è OneFootball da scaricare, il link è qui sotto in descrizione. Bene, fattolo assolutamente perché, dato che ora inizia un percorso impegnativo tra gennaio e febbraio, abbiamo praticamente tutti gli scontri diretti della parte superiore della classifica, più la Supercoppa contro l'Inter, calciomercato, è quello che vi dicevo prima, se viene fuori qualcosa ne parliamo insieme, lo leggeremo su OneFootball e un mi piace come sempre. A tutti i contenuti che porto qui sul canale, grazie mille per il supporto. Ieri sera, dopo la live di sei ore e mezza su Twitch in cui abbiamo un gufato tutta la serie A e ha funzionato, direi che non avessi visti poi i risultati, sono passato da Seacwolf e Gabbo, dove mi hanno chiesto così a bruciapelo che cosa ne penso della stagione della Juventus, quale voto posso dare alla stagione della Juventus. Senza giri di parole, gli ho detto assolutamente negativa, da 5. Loro mi hanno detto, ma non pensi che possa essere almeno 5 e mezzo? Nel senso che è vero che siete partiti male, ma guarda un po' quanti punti avete recuperato, guardate dove siete, siete a pochi punti dal quarto e dal terzo posto. E gli ho detto, guarda Gabbo, io rimango dell'idea che il 5 sia il voto giusto. Poi è intervenuto Carmi Special e ha dato una bellissima notizia, una notizia anzi, ha dato una bellissima spiegazione, più che notizia. E ha detto, guarda, il 5 e mezzo l'avrei dato in caso di vittoria contro il Venezia. E io sono molto d'accordo con lui, perché ricorderete che c'eravamo imposti di fare 15 punti nelle ultime 5 partite dell'anno. E quindi assolutamente, se quei 15 punti non arrivano, basta, perché tu col Venezia devi vincere, ma devi vincere in questo contesto, perché ci sta fermarsi, ci sta che a un certo punto contro una squadra non di livello c'è della giornata, l'imprevisto, qualcosa va storto. Ci può stare, succede, stiamo sempre parlando di calcio, la palla è rotonda, è questo, tutte le partite possono nascondere delle insidie. Ma non dopo che avevi già lasciato così tanti punti indietro, perché quando hai lasciato così tanti punti indietro, dopo hai l'obbligo di recuperare, per forza di cose. Aggiungo io che non è che la Juve è guarita. In questo momento, in tanti stanno dicendo, anche i media, la Juventus è tornata. La Juventus non è tornata, ragazzi. La Juventus non è guarita. Io vado ad analizzare le ultime 5 partite del campionato, e come dicevo ieri, sono tutte la stessa partita. Juventus va avanti di un gol, poi non riesce a trovare il secondo gol, o non vuole in alcune circostanze andare a cercare il secondo gol, cercare di non prenderlo, per poi chiuderla in un altro modo, abbassando i ritmi. E poi gli altri hanno sempre una occasione clamorosa, tranne il Genoa, che non ne ha mai avute, e rischia di riaprirla. È successo con la Salernitana, dove beccano il Paolo Corranieri, è successo appunto non col Genoa, perché il Genoa non l'ha mai tirato in porta, è successo col Bologna, quando fanno un'azione fotocopia alla nostra, però Scesni riesce a pararla. È successa anche l'ultima partita, appunto, vabbè, col Venezia dove appunto fanno gol, e lì c'è poco da fare. È successo col Cagliari, dove Dalbert e Gioao Pedro hanno avuto l'occasione colossale. Quindi delle ultime 5, tranne il Genoa, tanto per meriti loro, ma anche per meriti della Juve, perché quella è stata probabilmente una delle migliori partite giocate in Serie A quest'anno, con Allegri sulla panchina della Juve, con tutti i limiti del caso li sappiamo, però delle ultime 5, 4 hanno avuto lo stesso copione. Juve che va in vantaggio, abbassa i ritmi, riesca di prendere gol, e poi la chiude, tranne col Venezia dove il gol lo prendi, e non riesce poi a chiuderla, e infatti lascia i due punti. Quindi la Juve non è guarista, cioè la Juventus è ancora una squadra con grande difficoltà. C'è da sottolineare però che la Juventus ha sistemato per il momento, negli ultimi periodi, negli ultimi due mesi, la fase difensiva, e appunto negli ultimi due mesi ha recuperato un sacco di punti a quelli davanti. Io vi ho sempre detto una cosa, io non credo nella rincorsa Champions, non solo perché la Juventus, secondo me, in questo momento farà fatica a fare un filotto di partite, cosa che invece ha fatto, e di questo sono estremamente contento. Quanto più perché dall'altra parte, Napoli, Atalanta e Milan non sembrano voler mollare niente. Invece cosa succede? Che nel momento in cui tu inizi il filotto positivo, tutte e tre mollano qualcosa, tranne l'Inter che accelera e ne fa sette, sette di fila di vittorie e si proietta al primo posto in Serie A in fuga solitaria per un Natale, anche questo non era azzurro. Anche questo, l'anno scorso in realtà, era stato il Milan campione d'inverno, però l'Inter era comunque una squadra che faceva paura, quest'anno lo conferma alla grandissima, a mani bassa, la migliore squadra della Serie A di questa prima parte di stagione. E quindi io non pensavo né che potessero mollare così tanto le altre, perché ho sempre detto ci serve un crollo verticale di almeno una, né che la Juventus potessero annellare questa serie di vittorie. Non convincenti, perché l'abbiamo appena detto, non sono convincenti, ma vittorie sono. Per quello che tutte le volte che abbiamo anche fatto tre punti non eccezionali, la prima cosa che vi dicevo è sempre stata sono contento per i tre punti, virgola. Ma, puntini puntini, e vi spiegavo perché, secondo me, quelle partite erano state vinte sì, ma c'era da migliorare. Perché questo è sempre il mio mantra. Se vinci, va bene, perfetto, hai portato a casa, il risultato è per quello che ti sei allenato tutta la settimana, per quello che hai preparato la partita, per quello che è stata studiata, per quello che è stata giocata, per vincere. E se vinci, tu hai sempre fatto il tuo. Poi, in un processo di crescita, questo non può essere sufficiente, e vanno analizzate anche tante altre cose. E quindi le abbiamo sempre analizzate, in maniera critica, ma costruttiva. Per questo che, adesso scusate, apro una piccola parentesi personale, ma continuo a ritrovarmi dei commenti di persone che mi vengono a dire che sono ridico, ieri sera ho entrato in ballo anche Kino e Lello, e mi è dispiaciuto, perché semplicemente non c'entravano niente. È vero che tanti mi dicono ma signora vai avanti. Però ragazzi, se vi fate un giro nei commenti, tutti i giorni c'è una shitstorm incredibile di persone che vengono a dire che siamo degli aziendalisti. Che cosa vuol dire aziendalista? Perché, nel vero senso, la parola aziendalista significa che tu sei pagato dalla Juventus. E quindi, l'accusa è pesante di non avere un'analisi lucida di non essere politicamente corretto, di essere corrotto, pagato per dirvi certe cose. Io sono un uomo libero. Io dico quello che voglio. Io dico quello che mi pare. Se c'è da criticare la Juventus, la critico. Se c'è da fare i complimenti alla Juventus, li faccio. Perché non voglio portare avanti un'idea. Voglio basarmi su quello che dice il campo. Perché è il modo giusto di analizzare le cose. Se le cose vanno bene, bisogna dirlo. Se le cose vanno male, altrettanto. Ma non sempre. Cioè, è come dire che bisognava dire che le cose andavano bene quando avevamo due punti dopo quattro partiti inizio d'anno. Chi è che ha detto che le cose andavano bene? Nel mondo, il Juventino, e ce n'è stato uno che ha detto che le cose vanno bene? Penso di no. E allora non vedo perché ora che invece le cose si stanno andando decisamente meglio, non si possa dire. Perché poi vieni accusato di essere pagato dalla società per dire che le cose stanno andando bene. Come se non fosse vero. è come se volessi vendervi io una realtà che non è tale. La realtà è sotto gli occhi di tutti. Lo dice la classifica, lo dice il calendario, lo dica le partite. Che poi non piaccia il modo in cui gioca la Juventus. Ma questo è un altro paio di maniche. Io non ho mai detto che le persone devono adorare questo modo di giocare della Juventus. Perché non è così. Dico semplicemente che quando si vince si deve esultare. Perché la vittoria ti porta sempre a qualcosa di positivo. e ti porta anche a continuità dei risultati. Perché senza quelle vittorie anche sporche che abbiamo citato prima nell'ultimo filotto non sei qui a dire rimangono solo quattro punti dalla zona Champions. Cinque punti dal terzo posto. E hai un gennaio e un febbraio bellissimi perché sono tosti difficili complicati in cui devi lottare. Io non sono d'accordo con quello che dice Allegri. Allegri dice io spero di arrivare a fine febbraio quindi al 28 di febbraio mantenendo questo distacco dalla vetta. Quindi meno 4. Perché? Perché significa che non sono mai morto durante tutti questi scontri diretti non ho mai perso questi scontri diretti poi ho tutte le piccole con le piccole posso decisamente fare meglio rispetto alle grandi e poi le grandi si scontrano tra di loro e lì sì che vanno a perdere dei punti. Il ragionamento di Allegri è corretto perché è coerente è logico fida tutto. Io non sono d'accordo perché in un momento in cui ti sei già giocato tanti jolly devi andare a sbranare gli avversari nei scontri diretti perché tra Milan Atalanta Inter e Napoli tu hai fatto due punti in quattro partite ed è per quello che invece Allegri punta le altre cinque partite Udinese Empoli Sverona Sassuola Venezia perché Allegri è consapevole del fatto che i grandi punti si fanno sulle piccole squadre ci sono partite da vincere e partite da giocare le altre le altre di giocare perché anche il pareggio ad oggi nella testa di Allegri per quella che è la situazione in classifica è ok a patto che poi le altre me le vinci tutte quindi è coerente è logico il ragionamento di Allegri non lo condivido però mi auguro che la Juventus possa fare di più mi auguro che la Juventus possa metterci più grinta più voglia più vittorie anche nel filotto complicato perché vincere aiuta a vincere e poi è vero che non perdere in questo momento ti dà tanto è vero che non devi perdere nessun punto per strada cioè nel senso non devi regalare tre punti agli altri nei scontri diretti in questo filotto e quindi ok però mi voglio vincere quanto è più possibile poi se capita qualche pareggio ce lo facciamo andare bene però è questo che va sottolineato quando io e gli altri parliamo a seconda dell'andamento della Juve non è perché siamo scemi che vogliamo dire le cose a seconda di è perché è così che si ragiona se devo beccarmi dell'aziendalista quindi pagato dalla Juventus perché adesso dico che la Juventus va bene non ha senso se mi devo beccare dell'aziendalista perché non offendo i tesserati della Juventus non offendo il presidente non offendo la dirigenza non offendo l'allenatore non offendo i calciatori e non chiedo continuamente un ricambio che se ne devono andare devono andarsene devono andarsene non essere aziendalisti e avere un certo tipo di carattere che è diverso da quello di tanti altri che non è un problema affaracci di quelle persone che ce l'hanno ma se poi tu hai quel carattere io ce l'ho diverso non è che mi devi venire qua a offendere e a dire che sono pagato dalla Juventus per dire una cosa che è diversa dalla tua perché quella è la tua verità non è la verità assoluta quindi riassunto perfetto che valutazione diamo alla Juventus in questa prima parte di stagione in Serie A5 l'abbiamo detto l'abbiamo detto prima il 5 e mezzo te lo meritavi portando avanti anche i due punti di Venezia quelli li pesano tantissimo ce li ho qua pari a quelli di Udine identici perché a Udine la partita l'avevi vinta la partita l'avevi vinta e poi l'hai buttata via e invece col Venezia la dovevi vincere la dovevi vincere e ero obbligato in quel momento lì la Juventus che chiude la serie ha con ovviamente 19 partite disputate nella prima parte di stagione e 27 gol segnati ecco allora qua sicuramente ci sono tante cose da dire perché la Juve deve migliorare la fase realizzativa perché a partita lo vedete qua nello schemino che vi ho messo in sovraimpressione gol a partita positivi segnati a 1 e 42 sono pochi decisamente pochi gol segnati ogni partita e ne ha subito 17 0 89 di gol subito a partita non è una media della squadra di Allegri perché Allegri solitamente ne prende meno di gol però è ovvio che qua entra in gioco anche il livello della squadra è la prima parte di stagione dove non siamo andati bene quindi per forza di cose poi devi tenere in considerazione per il momento la fase difensiva sembra giustata nell'ultimo periodo quell'offensiva decisamente no in Champions invece hai fatto 6 partite di cui 10 gol fatti 6 subiti quindi 1 e 67 gol fatti a partita leggermente superiore alla Serie A e un gol a partita subito anche qua in Champions non è un problema aver subito un gol a partita pesano tantissimo però quelle 4 rette subite tutte nella stessa serata a Londra dove veramente è stata la peggior partita dell'anno spero di non dover mai più vedere una roba atroce sia per atteggiamento che per preparazione che per formazione che per gioco niente cioè proprio lì non c'è stato niente e quindi in totale 25 partite disputate 37 gol fatti e 23 subiti per un totale di 1 e 48 quasi un gol e mezza partita e quasi un gol subito a partita quindi sicuramente bisogna migliorare sia la fase offensiva che quella difensiva poi è ovvio che il numero va a prendere in generale tutte le partite se vai a prendere le ultime partite hai migliorato decisamente la fase difensiva e anche quell'offensiva perché tante volte ti ritrovai a vincere con un gol di scarto e ultimamente ti sei messo a vincere con due perché quasi tutti gli ultimi successi non sono più di corto muso 1 a 0 ma sono di medio muso 2 a 0 diciamo così che cosa ne penso ora che cosa può succedere beh fare previsioni sulla classifica lo ripeto ancora per l'ennesima volta non ha senso oggi non ha veramente senso perché ora dipende da te lo dicevo anche ieri sera da Seekwolf dipende da te tu puoi vincerle tutte e catapultarti al secondo posto in classifica a fine febbraio ma le puoi perdere tutte e ritrovarti decimo in classifica a fine febbraio quindi questa è una cosa assolutamente positiva perché dipende esclusivamente da te ora sono le tue capacità devi usare le tue forze riuscirai a vincere a fare più punti possibili in quel filotto benissimo complimenti hai aggiustato tutto quello che di male avevi fatto nella prima parte di stagione continuerai a far male ti meriterai di sprofondare verso il centro della classifica quindi è impossibile oggi far pronostici proprio perché c'è un filotto importante fino a metà di febbraio dove la Juventus dovrà per forza di cose provare a vincerne quanto è più possibile per quello che vi dicevo che non sono proprio d'accordissimo con Allegri per quanto riguarda il mercato io mi non è che mi aspetto io spero io spero in un centro avanti in un finalizzatore in un bomber d'area di rigore perché io sono fortemente convinto che la Juventus con un attaccante forte ok con un attaccante che possa fare gol vada a piazzarsi come seconda miglior rosa di Serie A ad oggi siamo più scarsi dell'Inter sulla carta io vado a prendere sulla carta quando inizia la stagione sulla carta io dico quando c'era Ronaldo che la Juventus era la miglior rosa della stagione perché Cristiano Ronaldo sposta troppo gli equilibri troppo immensamente quindi con Ronaldo Juventus al primo posto Inter seconda senza Ronaldo Inter prima e Juve che oscilla tra il secondo e il quarto posto perché poi entrano in gioco il Milan e l'Atalanta e se la giocano tutti secondo me il Napoli come ho detto anche da Davon quest'estate quando abbiamo fatto il video che c'era ancora Ronaldo la Juve quindi ho messo Juve di rosa la Serie A Inter seconda e Milano l'Atalanta che si giocavano il terzo e il quarto posto e il Napoli dietro perché secondo me di queste cinque il Napoli è quella che ha la rosa peggiore poi il campo meritatamente li sta mettendo lì infatti mi fa ridere io in questi giorni ho fatto un post di rimpianti è ovvio che con i secoli ma non si va da nessuna parte è logico che sia così però quando vai a analizzare la metà della stagione devi focalizzare i rimpianti per capire come migliorarti e questo non è piaciuto a tanti anzi mi hanno detto che la Juventus non doveva guardare indietro ma doveva guardare avanti e anzi meritava meno punti di quelli che aveva quindi non va bene se facciamo i rimpianti sui punti in meno ma va bene se facciamo i rimpianti sui punti in più vale solo al contrario questo giochino è sempre bellissimo non vale in tutti e due sensi vale solo nei sensi di quello che vuole certa gente questa cosa non me la riesco a spiegare però secondo me se la Juventus va a comprare un finalizzatore va matematicamente no matematicamente va personalmente a piazzarsi come seconda miglior rosa di serie A perché noi oggi abbiamo questa carenza noi oggi ci manca quel giocatore lì abbiamo giocato un girone d'andata e un girone di champions senza un vero e proprio numero 9 un bomber è incredibile questa cosa questa cosa è allucinante non abbiamo overperformato però per questo anzi abbiamo underperformato perché noi dovevamo essere sicuramente più avanti dovevamo essere almeno nei primi 4 proprio perché ribadisco abbiamo una rosa migliore di quella del Napoli gli abbiamo lasciato troppi punti per strada e quelli sono i rimpianti quelli sono gli errori che è per quello che è la valutazione della Juve negativa un champions invece ha fatto un bel giro nei champions dove quella serata là avessi anche fatto una buona figura non dico un'ottima una discreta anche perdendo una 0 perché ci può stare perdere a Londra perdere 2-0 ma in un altro modo non nella maniera rendevole nella quale ti sei presentata ci poteva dare anche 9 no? a questo giro nei champions penso che invece sia pesantissima quella serata di Londra e che ti piazzi il voto tra il 7 e il 7,5 una roba del genere perché il resto del giro non è stato veramente ottimo è vero che non hai giocato tutte le partite ai 100 all'ora però la vittoria col Chelsea è stupenda la vittoria per 4-2 con lo Zenit è bellissima la vittoria per 3-0 col Malmo è ok quindi poi hai fatto altre due partite con Zenit e Malmo dove hai sofferto molto dove non sei stato lucidissimo e va bene ce ne facciamo una ragione lo chiudi al primo posto e questo ti permette di beccare il Villareal che è un avversario abbordabile se alla Juventus arriva una punta a gennaio un centravanto un momber d'area di rigore secondo me i quarti di Champions li può raggiungere e secondo me il quarto posto lo può raggiungere però dipende sempre da come approcci quell'intervallo quelle partite lì quindi fino a che non avrò visto come hai approcciato i prossimi 40-50 giorni non mi sbilancerò e continuerò a ritenere la Champions utopia e finché non vedrò il nome se arriverà eventualmente un nome sul mercato di un attaccante perché secondo me la priorità oggi è questa poi il centrocampista serve sì ma se c'è la possibilità di fare un colpo solo lo voglio là davanti finché non vedrò chi arriverà davanti e non vedrò questo filotto bocca cucita non mi sbilancio perché è giusto che sia così abbiamo il mondo in mano dipende da noi noi abbiamo veramente la possibilità di salvare la stagione e di finirla anche ad alti livelli in Serie A abbiamo questa possibilità perché se tu le vinci tutte in questo filotto forse secondo ma terzo a pochi punti dal secondo ti ritrovi senza problemi quindi ora dipende da te da te sul mercato o da te sul campo non sono soddisfatto di questa prima parte di stagione in Serie A e come potrei esserlo ma ci sono i margini per far meglio prendendo quello che di buono ultimamente è stato fatto e proiettandoci nell'avere individuato un problema cioè facciamo pochi gol cercando di risolverlo sia sul mercato sia con gli allenamenti un abbraccio a tutti un saluto e noi ci vediamo oggi pomeriggio per il pagellone di Serie A e di Champions League Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.